Il modulo 1 di questo corso è la base introduttiva per la creazione di siti tour innovativi attraverso strumenti digitali. In quanto tale, getterà le basi per affrontare il resto dei moduli e toccherà i concetti principali del corso. Il modulo è diviso in tre parti e utilizza alcuni case studies come risorsa di apprendimento aggiuntiva. Nella parte 1 verrà esplorato il concetto di innovazione nel turismo e nelle imprese culturali e creative e in che modo gli strumenti digitali in particolare vengano utilizzati per innovare i siti tour. La parte 2 invece è focalizzata sulla sostenibilità e l'accessibilità come elementi necessari in qualsiasi buon piano aziendale nel turismo e nelle imprese culturali e creative. La parte 3 affronterà la creazione di un'esperienza autentica per i visitatori, concentrandosi su due modalità differenti per ottenere l'obiettivo. La scelta della periferia della propria città come oggetto del tour e l'utilizzo dello storytelling per costruire il proprio siti tour. Tutte e tre le parti del modulo 1 includono esempi di apprendimento basati su diversi scenari che possano aiutare a comprendere le applicazioni pratiche degli strumenti digitali della sostenibilità, dell'accessibilità, dello storytelling e della periferia della propria città per creare siti tour innovativi e autentici. Questo modulo include dei case studies, esempi di buone pratiche utili a mostrare come i concetti principali di questo corso siano stati implementati in vari siti tour in tutta Europa. Dopo aver completato questo modulo sarai in grado di riconoscere il potenziale innovativo dell'utilizzo di strumenti digitali per i tuoi siti tour, come un buon business plan possa promuovere una maggiore sostenibilità e accessibilità, saprai identificare le opportunità che lo storytelling offre nella narrazione della periferia della tua città e nella strutturazione dei tuoi siti tour.